Buonasera Presidente, buonasera Presidente, vediamo la gialla, tanto emozionato, diciamo che sta accadendo qui a Monza, in sede emozionante e notevole, perché adesso ho visto l'internet il pullman che passava nelle strade di Monza, c'era una cittadinanza numerosissima che li fa quindi penso che Monza abbia trovato veramente una scelta forte per sentire la propria squadra finalmente un campionale maggiore. Qual è il suo sogno? Il sogno che è questa settimana Presidente, qual è? Il sogno è di vedere Monza fare bene in storia. Qualche regalo, calco ai ticosi? La politica è una cosa diversa ed è importante perché abbiamo una grande carenza di leader in Italia, in Europa, quindi bisogna che chi ha esperienza e saggenza si immaginano disponibili per cercare di evitare delle cose diverse. Come lo capavano questo periodo successo a Mila e Nulla, quale ha un buono e quale il gusto ottima? Grazie per dire il mio cuore, 30 anni di Mila e di Dito, il mio essere di Mila e di Dito, quando voglio darsi di Pantano 5 e non c'è una nuova cosa, io abito la proposta di Mila e di Dito, e quindi diciamo che è la mia seconda squadra. Adesso, fatto questo esplorato, cercheremo di farne qualcun altro, facendo un bel figurare tra le grandi ricampaglie. Prima Galliani ci ha detto sugli acquisti sul futuro, chiedete a Berlusconi che sta arrivando. Stiamo così, ma noi consideriamo davvero una buona squadra, che possa anche così come fare bene. Sì, ci capiterà, e tremo di prendere qualche grande campione. La squadra insegna la sua esperienza e anche la sua capacità di controllare e controllare gli altri. si aspettava questa grande vittoria? Sì, ci abbiamo pensato a fin del mondo l'anno scorso. E io, francamente, sono stato delusissimo l'anno scorso perché non ci siamo arrivati con un gol. Presidente, sarà più difficile vedere, più facile vedere il Mila, ma più facile e più difficile vedere il Mila? Non è più facile vedere il Mila, oppure un centro-destra che, non deve essere una presa sua con il senso, non deve andare tra di due. Non facciamo fare coni di questo tipo, per favore. Grazie, grazie. Il festival sarà una serata speciale e non poteva che terminare...